Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. In questo video vi voglio portare in una mia giornata familiare in un posto situato nel cuore dell'Ubria e se non ci siete mai stati vi consiglio vivamente di visitarlo almeno una volta. Appena arrivati, dopo aver parcheggiato la macchina, ci siamo subito immersi nel verde. Tra l'altro esistono anche vari punti di arrivo, ma noi abbiamo deciso di fermarci e proseguire sul bel vedere superiore. Abbiamo attraversato un ponte inferno che viene attraversato da un canale artificiale chiamato Cava Curiana. Già da qui si può apprezzare un panorama magnifico. Per corso il breve potente siamo arrivati a una piazzola dove ci sono info point, biglietterie e i vari punti di ristoro. Il biglietto per chi fosse interessato costa 12 euro a testa e i bambini sotto i 5 anni non pagano. Visto il nostro orario di arrivo e l'orario di apertura della cascata abbiamo deciso di fermarci e mangiare qui prima di scendere. Abbiamo mangiato fuori perché si stava troppo bene e il posto era veramente bellissimo. Qua stavo leggendo il menù e per chi fosse interessato ci ho fatto anche una piccola ripresa così magari vi fate un'idea di prezzi e quant'altro. I prezzi forse sono un po' altini per la qualità ma ci sta, è una meta molto turistica e poi il personale è stato molto gentile e alla mano. Io e il mio ragazzo ci siamo presi un calice di vino rosso visto che avremmo mangiato della carne e alla bimba abbiamo preso patatine e hamburger. Tornando a noi abbiamo preso verdura e tagliata di carne ma non sentendoci ancora pieni abbiamo preso anche una pasta con tartuffe e porcini e purtroppo non era come me lo aspettavo per un totale di 85 euro. Non so fatemi sapere se secondo voi è troppo o giusto per noi forse un po' esagerato per la qualità ma comunque è tutto accettabile. Poi ci siamo rivestiti e abbiamo cominciato il percorso verso la cascata e durante il percorso ci sono varie cave attraversate appunto da piccoli ruscelli di acqua molto molto carini. Ora vi lascio a qualche ripresa di questo percorso. Comunque dopo qualche minuto a piedi da lì si arriva subito al punto dove si lascia il ticket pagato in presenza e poi da lì sulla destra comincia il grande spettacolo. Comunque ora guardetevi queste riprese appunto che ho fatto e questo come vi ho detto è una piccola cava poi per chi fosse interessato può stoppare anche il video sulle riprese che ho fatto sulle spiegazioni perché su ogni cosa che c'è da vedere c'è un cartello dove viene spiegata la storia e tutto quanto insomma di quello che state vedendo quindi abbiamo proseguito appunto e niente ce l'avevo presa con molta molta calma qua un pochino velocizzato perché vabbè avendo la pimpa piccola comunque camminavamo anche molto molto lentamente. Comunque dopo qualche minuto a piedi siamo arrivati al punto dove si lascia il ticket pagato e da lì sulla destra si vede subito qualcosa di meraviglioso. Siamo continuati a scendere per poter vedere meglio e come appunto detto in precedenza essendo una cascata artificiale in quell'orario era aperta e quindi al massimo del suo flusso. proseguendo si arriva alla fine della passerella chiamiamola così comunque con calma vi faccio vedere tutto intanto io vi lascio con queste riprese ragazzi perché sono veramente bellissime e ripeto che per chi non c'è mai stato o voleva comunque andarci ve lo consiglio ve lo consiglio veramente è brutto da dire ma io essendo dell'umbria forse ci sono stata quando facevo le elementari e rivivere questa emozione adesso da grande farla vivere a mia figlia è stato veramente bellissimo a me è piaciuto tanto e anche a lei quindi proseguendo si arriva alla fine della passerella se possiamo chiamarla così dove si vede tutto benissimo c'è un comodo posto per apprezzare tutto il panorama e perché no fare anche qualche bella foto vista la bellissima giornata si sono formati non uno ma ben due arcopaleni è inutile dire che questo è uno spettacolo naturale sia per cani che per bambini infatti mia figlia ne è rimasta affascinata e incantata insomma ora vi voglio lasciare con qualche ripresa avrei lasciato qualche suono quindi il video con l'audio perché vi poteva far apprezzare di più in caso siete interessati potrei caricare qualche video sui shorts comunque con l'audio e ovviamente dal vivo è un'esperienza che lascia una pace interna o comunque a me la natura e la sua bellezza lascia questa forte sensazione di benessere come potete notare non c'è solo la cascata principale ma ci sono altre vie diciamo dove esce l'acqua comunque nelle riprese successive vi farò vedere meglio queste altre discese di acqua io riguardando il video sono veramente incantata da questi arcopaleni ecco qua lì se ne avete un'altra un po' più piccolina è veramente bellissimo come vedete mia figlia era molto emozionata le piacciono tanto poi questi siamo noi che ci siamo fatti un piccolo video ricordo perché ci piace insomma lo facciamo ogni volta che facciamo qualche cita poi proseguendo la fine della passerella siamo arrivati al bel vedere questo diciamo non funzionava e mi sembrava un po' corretto darvi anche queste informazioni non so perché vabbè comunque in questo momento appunto siamo arrivati nel così chiamato bel vedere e non è finita qui perché poi abbiamo deciso di proseguire nonostante la pimpa di quasi cinque anni percorso nel bosco infatti dico nonostante perché è vero che è un po' faticoso ma fatto con calma lo possono fare un po' tutti grandi e piccoli perché il sentiero che abbiamo percorso noi è stato abbastanza fluido sia scendere che salire poi anche qua durante tutto il percorso quindi la discesa ci sono vari spiazzoli poi noi presi dalla curiosità in questo punto ci siamo voluti affacciare per vedere cosa ci fosse sotto ovviamente un panorama stupendo di questo bosco percorribile poi vabbè siamo scesi da questo diciamo balconcino e abbiamo continuato tutta tutta questa discesa immersa nel verde ora avevo fatto anche la ripresa del numero del sentiero e insomma di queste informazioni quindi se vi va stoppate leggete insomma comunque come vi ho detto scendere e salire non è molto faticoso comunque non è una strada brutta da percorrere come vedete io ci sono scesa anche con la pimpa anche qui comunque a metà del percorso ci sono vari spiazzoli con delle panchine così da poter fare una piccola pausa o anche qua insomma merenda quello che si vuole e poi continuare quindi da quanto ho saputo è possibile fare anche varie attività come rafting o escursione noi nel nostro caso ci siamo limitati a fare questa semplice ma bellissima passeggiata comunque il percorso non l'abbiamo portato a termine fino a giù perché la pimpa era un po' stanca quindi con tutta la calma del mondo siamo risaliti perché scendere è bello però insomma salire si sente anche se si fa piano comunque ci siamo anche voluti rifermare nuovamente ad ammirare la cascata nuovamente e poi ci siamo incamminati verso la macchina ma mentre ci incamminavamo verso la macchina abbiamo notato un bellissimo parco comunque un enorme spazio verde e ci siamo detti che sicuramente questo è stato anche a primavera insomma ci torneremo e perché no magari faremo anche un bel picnic perché ci sono i tavolini e insomma tutte le cose per poter fare queste attività ecco chiamiamole così comunque io sono rimasta veramente incantata poi mia figlia ha giocato un po' insieme a noi visto che come appunto vedrete dalle clip c'erano lo scivolo e fare insomma giochini per bambini e ci siamo divertiti abbiamo insomma vissuto questo momento tra di noi e non so a me è piaciuta molto questa giornata ecco poi non avevo mai fatto vlog così riprenderla veramente mi fa essere grata alla vita insomma di quello che ho e mi ritengo molto fortunata per cui dopo questa bellissima giornata siamo tornati alla macchina molto stanchini ma felicissimi della bella esperienza vissuta e niente ragazzi spero avete trovato questo video interessante rilassante e che soprattutto vi sia piaciuto ci vediamo nel prossimo video vi mando tanti baci